Buongiorno a tutti, ringrazio il Presidente, l'Ufficio di Segreteria e tutte le delegazioni qui presenti e amici delegati. Stiamo vivendo un momento molto difficile ed il nostro diciannovesimo congresso generale dovrà costituire un'occasione di riflessione piena sia sul presente e sul futuro del partito e di San Marino. Tutti i congressi del nostro partito hanno avuto un senso ed una particolare importanza per fare un'attenta analisi della vita economica, sociale e politica del Paese e per definire l'azione del nostro partito. Nel passato, sia lontano che recente, siamo stati in grado di avere un'attenzione molto alta dei sanmarinesi e li abbiamo convinti della bontà delle nostre idee. Anche oggi ci è richiesto questo, ma diversamente dal passato siamo in una condizione di grande difficoltà, incertezza e preoccupazione della nostra gente. Io, cari amici, provengo da una lunga militanza nella sezione di Borgo Maggiore, nel Paese, poi nel Consiglio Grande Generale, ma rimanendo sempre attento alla base del partito, cioè all'anima vera del partito, di chi crede nel partito senza nulla o poco chiedere. Sono certo che nessun partito possa vivere senza una base, senza la gente che crede nei valori e si impegna ogni giorno. È per questa base che vale la pena battersi, impegnarsi a fondo affinché sia sempre più protagonista e presente nella vita del Paese e del nostro partito. Siamo infatti un partito, non scordiamocelo mai, che ha dato un contributo essenziale alla crescita del nostro Paese. Non abbiamo mai governato da soli, ma abbiamo avuto una grande forza che veniva dalle idee e quindi dal consenso popolare che si formava su tale idea e sugli uomini nei tempi diversi che le hanno portate avanti. Infatti le idee camminano sulle gambe degli uomini. Le riforme più importanti portano anche la firma della democrazia cristiana, quella del voto alle donne, sia attivo che passivo, della legge sulla cittadinanza e della trasmissione della cittadinanza stessa, la Carta dei diritti del 1974 e le successive modifiche, la legge del piano regolatore del 1992, che ha permesso a tante famiglie di avere una propria casa e ha rilanciato l'economia del Paese e quindi anche il sistema economico e finanziario. Chiariamo subito. Parlo di un passato in cui si è creata ricchezza ed è stata ridistribuita ed il Paese è cresciuto. I giovani finivano gli studi ed iniziavano a lavorare. Certo, ci sono state anche delle distorsioni che nessuno nega, ma il Paese è cresciuto molto e i sanmarinesi hanno visto la loro qualità della vita aumentare. Non dobbiamo scordarlo, poiché oggi si tende a dipingere il passato come un qualcosa di orribile, ma non è proprio così e la verità non ha mai un senso unico. Certamente ci sono state persone che hanno approfittato di questo, hanno creato distorsioni e questo non si può accettare, ma questo è un rischio che ogni società evoluta porta con sé ed è un rischio che avremo anche per il futuro, dal momento che non esiste una società perfetta e non ci sarà mai purtroppo chi si esimerà dal delinquere. Il nostro compito è di agire con rettitudine, creare una cultura della legalità e un sistema giuridico che sia il migliore possibile. Occorre quindi un grande sforzo per rimettere in campo la nostra forza e per fare uscire il Paese dalla crisi in cui è. È una crisi dettata anche da eventi internazionali, dovuta anche ad un forte immobilismo. Dobbiamo certamente uscire dalla blacklist e apprezziamo il lavoro del Governo in questo senso, ma al contempo, finché ciò non avverrà, è necessario mettere in campo scelte politiche economiche chiari ed urgenti. Basta con le tasse, occorre lo sviluppo, occorre creare ricchezza, con le tasse non si va avanti molto e si impoverisce ancora di più il Paese. Ma vorrei anche dire che è forse giunto il momento di fare un'analisi attenta del momento politico e dire anche che per far fronte a una crisi come quella che viviamo, forse occorre anche allargare la responsabilità coinvolgendo sui grandi temi le forze di opposizione. Non intendo con questo mettere in discussione la maggioranza, che è uscita dalle urne, ma oggi noi viviamo un momento drammatico. Lo abbiamo visto nelle manifestazioni di piazza del mese scorso, che si sono caratterizzate per forti tensioni e per un impoverimento del Paese con una caduta verticale del PIL, con imprese che se ne sono andate e che difficilmente ritorneranno. A questo si aggiunge anche una forte disoccupazione che al momento crea un grande problema e che nel futuro può essere fonte anche di disagi più profondi. Al problema della disoccupazione, al problema del lavoro, noi come partito dobbiamo dare una risposta. Non possiamo vedere un uomo senza lavoro. Un uomo senza lavoro perde la sua dignità. Noi come partito dobbiamo ridare fiducia e speranza a questo Paese. Non ci attendono tempi facili. Quando andate in banca cosa vedete? Non ci sono più file agli sportelli, il denaro non gira, non ci sono investimenti e questo è un brutto segno perché significa solo una cosa, il Paese è più povero ed è in flessione. Occorre valutare questi fatti e proporre misure urgenti per rilanciare un Paese che ha potenzialità, che però che non sta sfruttando. Allora queste cose occorre dirle. Servono idee, serve forza, ecco perché ci sarà bisogno di un grande sostegno politico, di stabilità per offrire garanzia agli investitori che accorre a richiamare San Marino con progetti precisi e scelte chiare. L'opposizione in questo momento è costituita da movimenti che sfrutteranno per loro le nostre difficoltà e ci metteranno sempre in più in difficoltà, ma anche i partiti che pur ovviamente non facendoci sconto, e lo abbiamo visto, hanno però una visione del Paese diversa dai movimenti per tradizione storica e culturale. Una visione della politica che alla fine ha diversi punti di possibile incontro con noi. La DCI non può stare quindi ferma e non fare una riflessione. A stare fermi si sbaglia. La democrazia cristiana non ha mai rinunciato al ruolo di partito di maggioranza relativa, alla possibilità di dialogare e questo le ha dato centralità politica anche nel passato. La politica cambia in fretta e il momento che stiamo vivendo è talmente complesso che non vorrei non ci accorgessimo di cosa potrebbe succedere. Rimaniamo dunque leali a questo quadro politico, ma iniziamo un confronto serio con chi ha in animo gli interessi del Paese. Iniziamo a dialogare con tutti, anche con i movimenti, certo per metterli anche alla prova dalle responsabilità, ma soprattutto con i partiti più vicini a noi culturalmente. Certo, abbiamo avuto delle uscite dal nostro partito. Sono state qualcosa di doloroso, delle ferite ancora aperte e ribadisco che chi è uscito ha sbagliato, ma ormai permettetemi di dire che non è questo il punto. A noi interessa il futuro e il futuro o lo si costruisce o lo sussubisce. Penso che convenga costruirlo. Siamo il partito di maggioranza relativa, svolgiamo questo ruolo senza paura e senza tentennamenti. dialoghiamo veramente, non per dare colore al tempo. Diversamente rischiamo molto. Noi non possiamo essere il partito della patrimoniale, dell'addizionale IGR, di una politica che possa mettere in discussione lo Stato sociale. Questo non lo possiamo permettere noi. Noi dobbiamo essere un partito che può approvare questi progetti una sola volta, per uno stato di necessità e per lo sviluppo, ma non può essere questa la politica. Diversamente offriremo ai nostri avversari una prateria su cui sfidarci e questa sfida non è detto che si vinca. La DC deve ripartire dalla base, dagli amici che ci sostengono e ritornare ad essere il partito delle riforme e dello sviluppo. Oggi non ha molto senso dire che in questa legislatura abbiamo fatto questo o quest'altro, quando la gente sta peggio di tre o quattro o cinque anni fa. Dobbiamo lavorare per rafforzare un centro, ma sui contenuti, sui programmi, prima che sia troppo tardi o che altri possono prendere questa iniziativa. Non sottovalutiamo questo aspetto. Cari amici, mi candido alla segreteria del partito non contro qualcuno, vorrei essere che questo fosse chiaro. Anzi, desidero ringraziare tutti i dirigenti del partito uscenti per il lavoro svolto, per il tempo che hanno dedicato alla vita del partito nel suo insieme. Non è stato facile. Io mi candido per spirito di servizio, per dare un contributo alla democrazia cristiana. Mi candido, certo, essendo un consigliere, ma soprattutto come uomo della base delle sezioni del popolo democristiano. Mi candido per portare la base al vertice del partito, perché siano valorizzate e rivitalizzate le sezioni, perché sia rafforzata il rapporto con la gente, perché ogni iscritto possa dare un contributo vero alla vita del partito, per rafforzare quindi il legame con il territorio, con gli amici che operano nelle giunte di Castello ed anche ovviamente per rafforzare il ruolo del gruppo consigliare. Occorre un partito che dia un contributo forte al governo, ma anche che non sia schiacciato su questo. Occorre molta dialettica per essere fedele alla compagine di governo, ma al contempo anche protagonisti della vita per avere della vita politica per avere centralità. Come dicevo poc'anzi, la centralità non è immobilismo e né staticità. È ciò che ci hanno insegnato Sturso, De Gasperi, ma anche Federico Bigi e Clara Boscaglia. Partito popolare che sappia essere protagonista e che sappia rinnovarsi. Grazie Presidente, sto terminando. Il rinnovamento non è mai stato solo questione anagrafica. Oggi occorre un rinnovamento del rinnovamento. Capacità e credibilità, questo occorre oggi a noi o la gente ci abbandonerà per altre offerte politiche che oggi sono presenti. Una democrazia cristiana ricordiamolo che se dovesse ancora indebolirsi sia politicamente che poi sul piano numerico non servirebbe più e segnerebbe un affievolimento del nostro ruolo. Sono sempre stato solo uno di voi, un democristiano. Vorrei dimostrare che le persone che non urlano, che non hanno solo il desiderio di apparire, ma che amano il partito e il Paese, pur semplici ed umili, possono essere vincenti. Cari amiche e cari amici democristiani, il partito è vostro, vi appartiene, voi siete la passione e l'emozione che tengono vivo il nostro partito. Noi siamo la democrazia cristiana, questo è il nostro nome e non lo cambieremo mai. Siamo orgogliosi e fieri di appartenere a questo grande partito, democristiani sempre, ieri, oggi e domani. Viva la democrazia cristiana, viva San Marino. Grazie.